in questo campo come vedete abbastanza ampio grande e qua prima la prima bocchetta e ho trovato questa bocciola di un fucile ok un'altra scoperta qua non so se sia una moneta è talmente fina leggera ma è leggibile vedremo vedremo a casa ok qua ce n'è da lavorare andiamo avanti ecco qua un altro segnale forte 79 80 il risultato è questo con altro master purtroppo ci sono tante di queste lattine qua come vedete qua anche purtroppo questo è il pegno che abbiamo dovuto pagare con con il progresso ce n'è una ogni metro cidentaccio vabbè dai andiamo avanti diciamo che ero partito con più entusiasmo pensavo di trovare chissà che per il momento spazzatura qui un tubetto un residuo strano perché sembrerebbe siamo un po' fuori mano da quello che era a vecchi campi dove c'è una raccolta di spazzatura qua a Verona ma vediamo un po' allora qua vibra qua non c'è niente ecco cos'è aspetta un cucchiaio cucchiaio un po' vecchiotto un po' datato però non c'è altro di solito ormai si trovano interi e nemmeno l'altro pezzo rotto corrisponde senza eh vabbè sembra una cravatta in miniatura e in metallo suona non so una lancetta di un orologio di un pendolo o qualcosa strano ecco qua è la buca che ho fatto vabbè qua è schizzata fuori appena ho buttato fuori il terriccio della buca non so cosa sia è un po' indecifrabile qua è stato molto bello vedere la scena qua ogni tanto qualcosa è molto irregolare qua c'è il nostro amico che ha voglia di tornare a dormire adesso ti rimetto la non ti preoccupare facciamolo subito amico mio vai qua buonasera buonanotte anche te vai guarda quanti siete fratelli di terra siete fratelli di terra vi andate a ripuntare va beh qua da un bel segnale ecco qua qua che siamo qua là ok questo è il punto allora vediamo un po' se troviamo qualcosa qua ok ci dovrebbe essere qualcosa qua perché ha suonato così impazzito quasi vediamo un po' prendiamo il master vediamo se fuori no non da nessun segno ancora qua dentro 49 ancora qua lo dava più più alto ora mettiamo lì forse ci siamo un po' decentrati qua vediamo un attimo prendiamo il pinpoint forse con questo e sul vibrato e sul vibrato si guarda un segnale qua siamo sbagliati qua non c'è niente occhio qua e qui vediamo un po' qua qua non c'è più niente allora dovrebbe esserla ah guardate guardate anche voi vedete eh la vedete eccola qua avete visto è un vittorino si vede benissimo un vittorino abbastanza ben conservata questa cosa un'ape si è un'ape ecco qua qua avete visto ho scavato ulteriormente qua ma bravo master master pro ma che posto magnifico fantastico oggi è tardi perché ormai prima avevo lavorato qui vedete ma oggi è tardi ma la prossima volta voglio fare adesso farò ancora un paio di minuti ma guardate che roba fantastico veramente fantastico enorme qua ho da lavorare per un mese si perché ormai stava ragazzi l'ho esaurito tutto non c'è più niente sono stufo guardate qua che roba non so se mi spiego eh qualcosa uscirà fuori come è uscito lì benissimo bello 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 lì c'è una casa un rudere che ormai penso che e vabbè non credo che darò fastidio a nessuno se può qualche qualche bucchettino e poi la richiudiamo ok e qui qui nel campo nuovo eh adesso tra poco andrò via ma ho voluto fare come ho detto una sortita ok ok un centesimo del regno lombardo veneto o regno d'austria quindi siamo intorno ai 1840 erotti stavo andando via manca ancora 50 metri alla macchina e guardate cosa ho trovato che meraviglia adesso devo pulirla è grande non so se c'è una devozionale o che presumo di sì una medaglia un medaglione qui cosa c'è scritto qua c'è un numero qua cos'è mille non riesco a capire no è la rovescia ma proviamo a vedere di qua forse qua è più no non so comunque bellissima una buchettina piccola suonava maledettamente forte ho detto stavo rientrando velocemente alla macchina qui come vedete c'è un giardino di una vecchia casa abbandonata un bel posto comunque ragazzi eh sono un po' più sotto è dove ho fatto vedere prima quella collina ok saluto a tutti infatti un altro giorno qua il Chaval ma poco o niente qua insomma cominciamo a trovare qualcosa di più interessante d'altronde per me è una zona vergine in più in più in più all'interno in più in più Grazie a tutti